Proseguono senza sosta le indagini per ritrovare la piccola Cata, la bambina di 5 anni, di origini peruviane, scomparsa sabato pomeriggio a Firenze. L'ultima volta Cataleia, questo il suo nome per esteso, è stata vista nel cortile dello stabile in cui abita, un ex hotel in via Maragliano, occupato in modo abusivo da un centinaio di persone, perquisito da cima a fondo l'edificio nel nord di Firenze, qui l'abitazione dove la bambina vive con la madre, il fratello e uno zio, il padre invece, detenuto in carcere. Davanti allo stabile, ieri sera si è radunata la comunità peruviana per sostenere la madre di Cataleia, per chiedere giustizia per la bambina e anche la mobilitazione del console. Non rimanere in silenzio, diteci dove la piccola, dicono i cartelli esposti in italiano e spagnolo. Il sindaco Dario Nardella ha lanciato un appello a segnalare ogni dettaglio notizia utile al ritrovamento. Ha invitato a pregare per Cata, con la speranza che possa tornare presso dalla sua mamma e dal fratellino, il cardinal Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. E diverse sono le segnalazioni giunte che vengono valutate in queste ore. Per i carabinieri che indagano, tutte le ipotesi sono aperte, ma la più probabile è quella del rapimento.